Milanese di nascita e alto tiberina di adozione, Raffaella D'Orta è la pittrice che ha inaugurato la sua personale alla Sansepolcro Art Gallery. La realtà espositiva creata nel settembre del 2023 da Marcello Medici e Stefano Vannini nel centro storico della città pierfrancescana. Inizia il suo percorso, Raffaella D'Orta, con un genere pittorico che illude lo spettatore di guardare oggetti reali e tridimensionali dipinti su una parete. Ben presto si trasforma in ritrattista, parte dal realismo e approda al surrealismo per scelta di vita, dipingendo donne segnate dal tempo. La condizione femminile è al centro della ricerca di Raffaella, donne rotte, donne problematiche, ma anche donne carismatiche, passionali, con un vissuto forte non sempre dettato dalla loro volontà. Donne comunque in rinascita, vive nonostante tutto, battagliere che non si arrendono alle circostanze e che trovano sempre il modo per affermare la loro dignità. Donne che raccontano l'amore, l'illusione, la delusione, i tuffi al cuore. Donne affamate di vita a cui non è stata data nessuna possibilità se non andare avanti da sole. I lavori di Raffaella D'Orta restano visibili tutti i giorni all'Art Gallery di Sansepolcro fino a venerdì 20 settembre. I lavori di Sansepolcro fino a venerdì 20 settembre.